ciao ragazzi bentornati sul canale di total wargames italia mi sono incartato sul nome della comunità sono qui con ricky ross ciao a tutti bentornati si eri qua con sirius 21 la vedevo difficile adesso è partita male questa puntata non vorrei che fosse presagio vedremo cosa succederà allora siamo in sicilia stiamo vedendo le mie legioni che scendono dal sud italia verso la sicilia perché abbiamo giocato qualche turno siamo andati un po avanti rispetto all'ultima puntata rispetto alla quindicesima ci siamo portati un po avanti saltando qualcosa così non abbiamo registrato proprio tutto perché abbiamo passato dei turni a reclutare a costruire a preparare delle armate a spostare eserciti esatto siamo ci stiamo preparando per l'invasione dell'africa passo un attimo velocemente in rassegna le mie città dove sto costruendo a tutto spiano sto migliorando i centri urbani io ho tirato su due legioni in più rispetto a quella oltre a quella che avevo già con cornelio scipione che qui lo trovo eccolo qua è quello più indietro di tutti ti passo il turno ricky intanto va bene tanto io ormai ho poca roba da fare come ricorderete ricky ross siracusa ha conquistato la gallia transalpina che ormai è abbastanza si è pacificata decisamente dopo vari problemi di ordine pubblico e varie rivolte a massiglia difficoltà proprio piccolina la tua città di massiglia e comunque hai solo tre tre edifici insomma alla fine la gallia transalpina presa siracusa si è si è consolidata io ho semplicemente sistemato un po' di truppe per l'ordine pubblico potrei anche cominciare a tirare su un'altra regione volendo ma tre credo che bastino per assaltare l'africa la differenza tra chi i soldi chi non ce li ha vabbè adesso è dall'inizio della della campagna che va così e quindi non è che è passato il turno sì finalmente la mia spia dopo quindici turni in mare è riuscito a arrivare vicino al cartaggio grado aumentato per il mio veterano e adesso c'è un ricatto qualcuno che ricatta un membro della mia famiglia tiberio cispio cicurino solo per il nome che ha dovrei lasciare lasciarlo morire perché ragazzi tiberio cispio già è fantastico ma cicurino vabbè comunque visto che i soldi li ho come dicevamo prima contrasto le voci e allora siamo praticamente pronti e si è bloccato vai tranquilli siamo praticamente pronti ad attaccare l'africa ultimo territorio che ci rimane da prendere qua c'è una spia che è migliorata vediamo cosa posso fare bassi miglioriamo la sua astuzia dai la libia non sa ancora cosa l'aspetto infatti a le sue città sono abbastanza sono ben poco presidiate vado a reclutare qualche nave a costruire qualche nave d'assedio ok così mi preparo con tutte le forze per l'attacco finale io mi sono riempito di pentere d'artiglieria eh sì sono molto utili quando si attacca dal mare un'altra città se ti servono soldi te rido io se ti servono ho speso praticamente tutto per sistemare Siracusa che era stata distrutta da un grande incendio io sto migliorando un po' le città il cibo per il momento ce l'ho vabbè ora poi il prossimo turno migliora un po' l'agricoltura allora vediamo qui posso migliorare un tempio perché c'ho la cultura che sta scendendo probabilmente esatto 4 1 1 di influenza questo vuoi darmi per dire ecco sentiamo 3.219 che così sentiamo ecco è partito è partito lo strozzino quasi quasi mettiamo il tempio di l'altare di Nettuno che mi dà più influenza culturale e mi dà anche se vuoi che ti lascio cartagine almeno quello me lo devi dare cartagine è mia di diritto diciamo adesso non è che puoi sperare chissà che cosa vabbè prossimo turno ti sgancio qualcosa dai e allora grado aumentato anche il veterano non l'abbiamo migliorato andiamo a migliorarlo ora vediamo se può migliorare esatto la capacità di movimento benissimo io sono praticamente quasi pronto per per organizzare lo sbarco io sono pronto ecco lo scipione porto scipione all'Iribeo devo solo scegliere con quali truppi attaccare una città con quali l'altra l'armata di scipione l'armata di tettenio levinio la dirigo verso cartagile mi sa io vado verso attaccati possiamo praticamente anche già sbarcare eh no dammi due turni almeno per arrivare giù no no vabbè ancora devo attraversare il mare sto soltanto preparando il tutto diciamo ok vado a imbarcare un'armata l'altra si prepara pure ok sono praticamente pronte tempo di reclutare quelle navi a Caralis torna indietro la flotta e siamo praticamente pronti ti passo il turno no 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 ma sto dicendo me dimenticavo che c'era il mio dignitario che dovevo puoi assaltare insediamento delle ruote commerciali velo dimenticato devo aggregare il dignitario ad un'armata vabbè adesso la farò sbarcare di nuovo Allora, vediamo un po' le tue forze Con cosa ti prepari ad attaccare Il sud La Tripolitania C'ho una flotta piena Eccola, davvero Me ne manca uno solo Però ho pochi soldi Ah però, bella flotta Esercito anche quello 20 unità su 20 più Quindi tu attacchi con un'armata? Sì Quando uno c'ha pochi soldi si deve arrangiare Sono i veterani delle Gallie? Sì, sì, quelli che ho portato Dal nord della Spagna E i migliori che ho Quelli che ho tenuto a Siracusa Non hanno fatto nulla Sono scarsetti, ecco Vabbè, potresti sempre portarteli come supporto Al massimo Qualche mercenario Devo scegliere solo che tecnologia fare Magari faccio qualcosa per l'assedio Giusto per Se ti servono soldi io c'ho un 925 Potenziamo l'economia Visto che ormai sono sempre il tuo banco, Matt No, questo turno va bene così, guarda In Cartagine la Libia ha una piccolissima armata Calpurni e Publirio continua a guadagnare esperienza Meno 15 al costo di esecuzione di tutte le azioni Mi piace questa cosa Fazione distrutta Gli oretani Come non detto Volevo proporlo Ci hanno pagato per guardare Ci sono durati veramente tanto Io ho reclutato un po' di Una gran potenza sta diventando in Spagna Per l'ordine pubblico E qui proprio a Colfidium Ho un ordine pubblico veramente scadente Vado a migliorare la crescita per turno Con la costruzione del paese romano Redutiamo ancora qualche orario Rome needs good fighters Potresti fare tu il doppiatore invece di quello che sbaglia Beh, in effetti, visto il livello dei doppiatori Diciamo che avremmo anche potuto Proponiti personalmente Potrei propormi, sì È un'idea, guarda Va bene, e allora Ci siamo quasi Stiamo arrivando E ci mette un po' più di tempo Quella che deve andare da Drumetum Ma vabbè Quanti turni? Due turni? Arriverà un po' dopo Allora, quando è che dichiariamo guerra alla Libia? Devo aspettare ancora? Penso un turno Il tempo di muovere è una flotta Vabbè, vuol dire che ti aspetterò Ecco che ti mando a Takape La mia spia Guarda quante belle armate Ecco, ti pareva che quella difficile toccava a me Esatto Vuoi che cominci a danneggiartele? Dai, fai qualcosa Cominciamo a sabotarle La tua spia ti conviene mandarla anche lei verso Takape Sabotaggio è riuscito Sono indeciso, quasi quasi Mi metto lì nella baia Mi faccio attaccare E provo tutto in una battaglia navale Salvo il turno Salvo la partita Anzi, e passo il turno Muovo verso sud anche la mia allora, eh Ah, sì Fregatene di Adrumet Un tanto c'è proprio una guarnigione microscopica La Libia diciamo che la faccio fuori In due turni Poi dobbiamo solo scoprire cosa c'è a Capsa Che ci sono i massili a Capsa Dico quanto ci metto Tra l'altro è proprio l'ultima cosa che ci rimane da fare Ah, avevo anche l'obiettivo di assaltare una rotta commerciale degli Oretani Ma se gli Oretani sono Perché non Sono finiti Sono finiti, perché non si cancella questa missione Vabbè Io ci metto uno, due, tre turni Secondo me se in tre turni poi tu dichiari guerra Allora mi attaccano la flotta Io quasi quasi mi gioco tutto in una battaglia navale Bah, vediamo come preferisci Lascio a te il compito di dichiarargli guerra a questo punto Io sono pronto in due turni attaccare Cartagine e in tre turni a Drumetum Va bene, perfetto Tre turni dovrei arrivare anche Vorrei dire che mi piazzo in attesa davanti a Cartagine Sì, non si sospettiranno, penso No, perché dovrebbero sospettirsi della presenza di due flotte e due regioni davanti a Cartagine Tutto sommato Una cosa quasi normale Ah sì, insomma Hanno scoperto il nostro agente in incognito Perfetto Missione fallita, assalto agli oretani E appunto era quello che dicevamo prima Ci sembrava strano che potessero Comunque le loro truppe Sì, vabbè, sì, c'è qualcosa insomma Pirateria rampante Ah però, questo messaggio io continuo a non capirlo Ma vabbè Sì, il loro esercito migliore è quello che ti stavo già danneggiando Quindi se vuoi continuo Sì, quello di 16-15 unità Se vuoi continuo, eh Anche se Anche se Sono qualche elefantino del generale Dove? Ma scherzo Eh, per dire quello subito fuori L'altro, allora, quale vuoi che attacco? Te l'ho detto, io per questo mi faccio Mi faccio taccare la flotta Gli tiro giù tutte le navi Ma se no, scusa, sbarca anche tu ad ad adrumetum Facciamo una più semplice, no? Sbarca anche tu ad ad adrumetum E poi con le navi costeggiamo la flotta E con gli eserciti scendiamo a sud Non è più semplice Sessi, insieme Sì, mi pare un po' più semplice Chi vuoi che gli attacchi, dai Ma attacca quello grosso Magari facciamo più danni Io ad adrumetum In due turni posso sbarcare Ok, riuscito Tra l'altro io con l'altra spia Io quasi quasi me ne vado La mia spia arriva ad adrumetum L'altra spia io me la mando a guardare Capsa A scoprire cosa c'è a Capsa Ti ho passato il turno Ecco che sono sbarcato Quindi adesso si incazza la Libia Adesso mi dirà che ho sconfinato Sì, bravo Infame Spaditore Ah beh, sei già sbarcato Sì, è sbarcato in automatico Perché l'avevo selezionato qualche turno prima Non ci avevo fatto caso Quindi io Turno che arriva mio Dichiaro guerra Ok, a me serve un turno per sbarcare Oh no, sono già sbarcato Si è già sbarcato, benissimo Va bene, va bene Mi aveva detto che non potevo farlo Sconfiniamo pure, non è un problema Vuoi conquistare adrumetum tu per farne una base? Ma, guai, per me è indifferente Come preferisci Tanto l'importante è che conquistiamo l'Africa C'ho la mia armata piena Chiunque la conquisti non è un problema Sì, sì, esatto Che la conquisti io o tu È uguale Ecco, vedo la tua spia che va giù Ad adrumetum Ormai praticamente controlliamo ogni mossa che facciamo E per paura Delle desincronizzazioni E adesso è il tuo turno Dobbiamo raccontarci ogni volta Sì, è passata la Libia Sono al mio turno Sconfinamento Eh, che pallide Gneotettenio Levine Mi ho ricattato Ma contrastiamo le voci Anche questo c'ha dei nomi veramente piacevoli Ah sì, ma c'ho dei nomi veramente assurdi Con tutti i personaggi Vabbè Allora, costruiamo a Liribeo la caserma Così eventualmente possiamo portare rinforzi Ok Salvo Giusto per sicurezza E mi preparo all'attacco Ok, partita salvata Togliamo Le marce forzate Dichiariamo guerra La Libia Con chi è alleata Non mi ricordo Già mi odia Vabbè, alleate come assili Con cui sono già in guerra Quindi non c'è Quelli non dovrebbero essere problemi I miei alleati sono Porion e Siracusa Vediamo se mi seguono tutti Mi segui? Io ti seguo Bravo, fedele Anche se neanche Porion mi ha seguito Benissimo Comincia La costruzione delle armi di assedio Delle torri Vediamo Vediamo il mio esercito che assedia Sì? Sì Costruiamo la torre mobile Potremmo realmente In realtà Risolverla in un turno solo Ma vabbè Sì, anche meno Forse Vabbè Vogliamo Fare un attacco fatto bene Allora, dov'è la mia Floccagli forte La mia flottina Eh, vorrei tanto farlo Non so perché Non mi ci fa cliccare Ah, certo Aspetta Adesso No È perché era in marcia forzata Ecco perché non riuscivo Vabbè Cioè, probabilità di vittoria Della Libia Sono praticamente Zero Dello zero Dello zero Dello zero Per cento Barco anche con l'altro esercito Sicurezza Eh, sì Eh, sì Vabbè Questo lo giocheremo tanto per No, ma quasi quasi Guarda Lo rimette in marcia forzata Lo porto vicino al tuo Ok L'altro esercito Lo porto vicino al tuo Vediamo se in un turno riesco Ad attaccare a Drumetum No Mi serve un altro turno per attaccare a Drumetum Se vuoi prenderla tu fai pure Guarda Non è un problema Autorisolviamo Ti continuo a danneggiare Quella Ti continuo a danneggiare Quella Quell'armata lì Sì Attaccape Così Continuiamo A fargli del male Sabotaggio riuscito Benissimo Ok Sarei tentato di vedere se posso reclutare Ah, sì Elefanti Anch'io volevo guardare Elefanti Avevo proprio un esercito da diciamo unità Proprio fatto apposta per reclutare gli elefanti Non l'ho detto Non vorrei che ci voglia Tanto moriranno durante questa serie Guarda Quindi Moriranno subito Sto salvando per faglio Ok, ti ho passato in tu Ecco che la mia spia scende verso Che si chiama? Capsa Non ricordo Capsa È giusto il piacere Quello Così Di reclutare Dell'inutile Eh, messana pestilenza Ah, però No, adesso vuol dire che mi sfunto al torsino turno Vediamo la guarnigione Cartagine No, sono solo più di carte milizia cittadina Piccole cose Piccole cose Poi la saccheggio Ma fai come vuoi Adesso tanto ti posso aiutare io per conquistare il sud Dai Allora, vado di risoluzione automatica? Io vado di risoluzione automatica, dai È imbarazzante 47% Allora, confrontiamo un attimo il risultato Giusto per sicurezza Io non aspetta Evitiamo desincronizzazione No, aspetta, sta affrontando la loro flottina Allora, mi dice che abbiamo perso 198 uomini Giusto Abbiamo catturato 308 nemici Sì Va bene, io ne ho cittadina Perfetto Va bene, i dati corrispondono Sembra che non stia più desincronizzando Questo è un boom Un boom 6 Ok, saccheggiata Poi prendetela Vabbè, è tu adesso Dovresti farla ribellare prima Ah, c'è ragione No, ma Non sei una fazione barbarica No, c'è ragione C'è ragione Si ribella adesso Io scendo Vabbè, tienitela pure Tienitela come basse Magari ci fai una caserma Solo meno 66 di... C'è una caserma che puoi riparare È anche una caserma greca Quindi, guarda Tienitela, tienitela pure Io mi prendo cartagine E Capsa Tu poi vai a prendere Takape E la campagna è finita Il villaggio è l'enico Va bene, quindi Dai, così prendiamo cartagine In questa puntata Passato il turno Ok, sta salvando Risulta anche a te? Mi risulta che Che ha salvato adesso Come se dovesse passare il turno Ma sono ancora sul tuo turno io Anche a me sono una... Ok, stiamo Ok, lusitani Arevaci Cantabria Emporion Mi si è spostata L'inquadratura sul mare Non so perché Massili Ecco che arrivano i massili Si era un po' incartato L'esercito dei massili Guarda quanti sono Vabbè, adesso Che succede? La Libia Mi contrattacca? Dove? È veramente scandaloso La flotta libica Contrattacca la mia flotta Cioè È veramente una cosa Cioè Imbarazzante Adesso le probabilità Sono 100% totale Assoluto Di forze rimanenti Per me Questa non l'ho capita Diciamo Ogni tanto L'intelligenza artificiale Ha questi momenti Con cui con le flotte Volevo Vuole fare cose strane Siete un po' Sandokan Due navi contro tutto Ah sì Erano tra l'altro Due mioli E credo Sì che cos'era Adesso Due mioli d'assalto Vabbè Non ho Perso nessun uomo Forse Sì infatti Vabbè Ok Bella mossa Libia Bella mossa Complimenti alla Libia Giusto per rendere più interessante L'assedio Che non è scontato Ecco che partono dal sud Si muovono gli eserciti La taccape E' partito quello che avevo danneggiato E' partito l'altro Ok Io intanto Ricerca completata Si è spostata l'inquadratura E' migliorato un veterano E' migliorato un generale E' migliorato un ammiraglio Hanno scoperto ostilia Pestilenza Siracusa No Vaffanchio Ti annuncio che Che hai una pestilenza Siracusa Allora Va bene Adesso facciamo fuori i cartaggi Cartagine Salvo Per sicurezza Sai com'è Però prima di far fuori i cartaggi Sposto l'esercito Aspetta che Ok Allora Dovrei avere la mia spia Con cui voglio vedere Dove sono andati Gli eserciti dei massili Visto che non li vedo più Vedi la mia spia che si muove Dove? Va lenta ma Ma si muove Dove? Eh a nord di Caps Si lo vedo Sta correndo ecco Si è fermata Però l'abbiamo visto Ok Fornitura di veleno Vediamo se riesco I venti del deserto Non so perché va lentissima Ma sto provando a sabotare I venti del deserto Ho visto Ho visto L'armata dei massili Tra l'altro Sono i massili forzati Si sono quelli odiosi Che si muovono nel deserto Senza problemi Quindi Va lentissima Si Non so perché In questo momento Vada così lenta E ancora lì In ginocchiata Non dire così Che sembra brutto Si adesso Sembra anche un po' brutta Come possa adesso E' lì che sta ravanando Sabotaggio Sabotaggio non riuscito Va bene Benissimo Sfodera la spada Benissimo Non è riuscito il sabotaggio Però adesso so dove sono Prendo il mio esercito E' il problema Che appena arrivano nel deserto Mi muoiono tutti Tutti Ah no In questo deserto no Sembra che non muoiono tutti Eh stanno cominciando a rallentare un po' tutti Come Sì Vabbè vediamo se mi attaccano dai Beh Prendiamoci cartagine va Percentuale di vittoria Totale Ma vabbè La voglio giocare solo per vedere Per il piacere di vedere cartagine Ok Comincia L'attacco con l'artiglieria Intanto arrivano le flotte Io non vedo nemici sulle mure Io non vedo nemici sulle mure Ho visto già una torre danneggiata Ok io intanto ho dato ordini alle navi Torre il 40% di danni Utiliamo giù prima le torri Prima di dare l'assalto Personalmente avrei preferito Delle torri e mure un pochino più resistenti E dare qualche colpo in più all'artiglieria Che sono veramente pochi Non ho capito scusa dicevi In generale avrei preferito delle torri e mura Un pochino più resistenti E magari dare qualche colpo in più all'artiglieria Che ne ha pochi a disposizione In senso è anche brutto Che dopo tre lanci di artiglieria Venga giù una torre Beh sì In effetti questo è un po' Velocizzato diciamo È semplificato Allora una torre con l'arcieri Sta andando giù Sì al 90% Sto guardando qua Ecco che cade Eccola Vado a buttare giù l'altra Intanto le mie navi si avvicinano Giusto per non farci mancare nulla Che bello il faro però C'è un po' di lag Anch'io Ok fra poco va giù anche l'altra Ecco vedo che Benissimo Ti direi con le tue scale Puoi già dare L'assalto alle mura a destra Ok Sì sì Con i principi che ti ho dato Se mi attacchi qui Mi fai una cortesia Esatto Questa zona qui Ti mando I veliti a fare da schermo Sì ma secondo me Non è neanche presidiata Lo vedremo presto eh Sto muovendo le scale comunque Ed è finita Era finita addirittura Sì era finita anche prima di iniziare Diciamo che era giusto il piacere di Ecco però si vedono le truppe nemiche Era giusto il piacere di combattere a Cartagine E di vedere la città Eccoli là Va bene Vuoi bombardare un po' con le navi giusto per togliereci le spizzi Sì ci togliamo Ora ci togliamo tutti gli spizzi del mondo noi Gli astati vi faccio entrare dalla porta appena l'abbiamo conquistata Ma guarda che stanno facendo dalle mie torri C'è la Che stanno facendo Gli opliti mercenari Quelli della torre a sinistra Stanno scendendo invece di salire È vero Non si capisce più che cosa succede Non si capisce cosa stiano facendo Non posso cliccare più da nessuna parte Solo fuori posso cliccare I principi invece funzionano Hanno poggiato la scala e se ne sono tornati più No dentro le mura neanch'io posso premere Ovviamente perché ancora non abbiamo preso il cancello Ah ecco adesso mi fai cliccare sopra le mura Adesso si anche a me Ah Cacchio Ah Ah Ancora Velocizziamo di nuovo perché qui Si va proprio A due all'ora eh Abbiamo conquistato una torre Un po' Un po' non ce la possiamo fare La mia flotta sta bombardando, ecco portiamoci a velocità normale, intanto ho tirato fuori la chat per sbaglio, si ho visto, ho visto, ho tirato fuori per sbaglio la chat, stavo cercando di riportare il gioco a velocità normale, vabbè, ora li recuperiamo, non so perché tra l'altro non vado in modalità schermaglia, vabbè. Ma hai fatto una bella figura qua, eh? Eh no, perché mi è partita, stavo cercando di premere il tasto T e invece ho premuto il tasto Y. Psylon. Ecco che stanno scendendo. Tu sei già all'attacco, arrivano cannonate dalla flotta. Sì, speriamo cadano su di loro e non su di me. Beh, chi se ne frega, tutto sommato. E intanto si dando l'assalto anch'io. Mi lanciano addosso un po' la manetta. Aspetta che diciamo alle nostre navi di usare proiettili standard. Ah no, già stanno usando proiettili standard, però non so perché arrivano infuocati. In chi li vedi infuocati? E magari è per la pioggia. Per rendere infuocati. Dovrebbero essere standard. Ma arrivano infuocati, vabbè, questa non l'ho capita, ma... Ah, qua ci sono dei simpatici triari che sono sbarcati. Ehi, mi sta cadendo un edificio in testa. Vedo, vedo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Principi! Per gloria! L'infanzia di speare è pronta. E guarda! Adverso! Gli elefanti arrivano da dietro! Poi ne hai già persi due. Eh, ci sono degli opliti libici. Attenzione! Ah, li vedo. Sorpresine per Sirius. Non li avevo visti, adesso li ho visti. Non ti preoccupare, ti faccio vincere anche questa. Ah, il problema è che c'è la torre che probabilmente darà fastidio agli elefanti, eh. Ma io sai che faccio? Sfondo? Me ne frego. Me ne frego. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Sfondo! Ah! E' giocatore! E' giocatore! per fortuna dei presi solo tu e non io una delle nostre unità si è scatenata ecco che si sono scatenati gli elefanti e sono morti il nostro generale è sotto attacco sconfitto il gerai nemico gli elefanti si sono scatenati e sono morti tutti gli elefanti in dura barbina per i miei elefanti come al solito sono io che ti risolvo i problemi beh è per questo che ti ho scelto come l'altro ok la tabella è praticamente finita se ne mancano solo unità di applicativi adesso dureranno poco ed è finita ecco lì decisiva vabbè decisiva ok e anche cartagine è conquistata per la conquista dell'africa manca soltanto capsa e abbiamo finito la campagna e addormentum ah no addormentum l'ho presa io addormentum l'hai presa tu e ancora non mi ricordo benissimo ho perso tutti gli elefanti va bene recluterò altri occupo cartagine e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ragazzi ciao a tutti